La Fusione dei Comuni La Fusione dei Comuni La Fusione dei Comuni Quando vota avverranno dei cambiamenti o ci saranno delle soluzioni diverse o uguali a quelle che ci sono. Perché? Dice io vado a votare. Perché? Per elezere Fravesi, per elezere l'Ottobre, per elezere Giuliani, per elezere Giovanazzi, per elezere Panizza, per elezere Rossi. La Fusione dei Comuni Invece non avviene. La gente va, vota, tra l'altro non si sa bene che cosa vogliono fare perché non si riesce a capire che cosa vogliono fare e la gente si stufa. Quando ci sono stati referendum su argomenti interessanti? Guardate sull'aborto, per esempio. Altri referendum sui partiti che quando abbiamo votato che non si dovevano dare soldi ai partiti abbiamo quasi l'80% votato e cosa è stato? Ce la siamo presa nel sedere perché gli ha cambiato la lese perché i soldi gli voleva prendere lo stesso. Sai, i comuni, il referendum sui comuni, il referendum sui comuni è un po' una cosa, ci voleva per conto mio delle proposte più concrete, più concrete. Per esempio, se si fonde il comune di Dreda, la tassa dei rifiuti solidi si dimezza, oppure se i due comuni si fondono ci sono i vantaggi A o i vantaggi B, cose concrete. Invece si fonde i due comuni, così si fonde l'ufficio per l'edilizia, poi si fonde l'anagrafe, eccetera. Le cose devono essere dette in maniera diversa. Per esempio, quando il sottoscritto vi ha parlato degli ospedali che, come sapete, il mio palino fisico, e su quell'argomento sono certo che mi guardano che sarò più, faranno così, che il Santa Chiara sarà l'unico ospedale di tutto il Tretino, è dovuto alla tecnologia, benedetti, alla tecnologia. Oggi i comuni piccoli non possono avere su questo argomento si doveva parlare e dire le cose concrete e no, ma è meglio affondersi perché se si sta insieme è meglio che si sta separati. Non è questo. Anche perché, anche perché, la cosa fondamentale che doveva essere detta è che non ci sono più soldi. E bisogna anche pensare che non ci sono più soldi perché questi governi saranno costretti a diminuire la pressione fiscale. Continuano a dire, ah, ci abbassano le tasse, abbassano le tasse, abbassano le tasse, abbassano le tasse un corno, perché il l'eleva dalla banda e l'alza dall'altra. E' molto di tassette, tassotte, tassupole. Allora, quando avverrà, perché un giorno o l'altro saranno costretti ad abbassare la pressione fiscale, se non vogliono che le aziende chiudano e che il tempo indeterminato diventi veramente tempo indeterminato e non tempo indeterminato, tra parentesi, provvisorio. Allora, quando noi parleremo delle tecnologie e diremo, e diremo, non saremo lontani, che l'anagrafe sarà tutta centralizzata a Trento, perché i costi di rimpiedi server, come diciamo, o impianti di anagrafe sparpagliati non saranno più possibili? Allora, quando avverranno queste cose vedrete che tutto cambierà. Allora, all'agente bisogna dare la possibilità di votare su degli obiettivi. L'obiettivo è che quando si sbara e si deve sbara in centro, la gente vuole sapere quando vota. Adesso andiamo a votare al referendum. Allora, il sottoscritto è sempre stato contrario a questa storia del Senato, Parlamento, Parlamento, Senato, cambia una virgola, Senato, torna al Parlamento, poi al Parlamento magari drio strada, gli bavi a qualche Doom, eccetera, eccetera. E anche i programmi elettorali. I programmi elettorali, ragazzi, cosa sono i programmi elettorali? Voglio fare un salto indietro. Allora, facciamolo di 40 anni. Quando c'era, lo devo aver già detto in una trasmissione, ma se l'ho detta la ripeto, che cosa c'era? C'era al di là del muro il sistema comunista. Al di qua del muro che erano i comunisti, che se avessero potuto, nazionalizzava anche le scarpe. Perché? Perché era il momento. Le farmacie bisognava nazionalizzarle, le municipalizzate, l'Enel nazionalizzare, gli ospedali pubblici, è giù di questo passo, che può andare anche bene, per l'amor di Dio. Dall'altra parte, invece, c'era tutto un altro gruppo di pensiero, al quale appartoneva il sottoscritto, che noi eravamo contrari. Oggi non so se sarebbe proprio così contrario come allora, perché, insomma, si può cambiare anche l'idea. Era Bismarck che diceva che solo gli agini noi cambia di idea, mi pare. Ecco, quindi si può cambiare. Non sarei più così tranquillo sulle privatizzazioni. Comunque, c'erano due sistemi di pensiero. Si può dire sistemi di pensiero? C'erano due opinioni. Oggi, ditemi voi, uno va a votare. Su cosa voti? Sul frizio, sul panizza, su quell'altro? No, mi spiace, non me ne frega, voglio sapere, ottobre. Dovete, vi devo dire una cosa. Ho visto l'onorevole Ottobre. Sono andato a postadro dal senatore Fravezzi e li ho pregati tutti e due se facevano un'interrogazione parlamentare sul seguente argomento. Io voglio sapere perché la Guardia di Finanza ha fatto i reparti antisommossa, perché a Pravi, Gesù, la Guardia di Finanza, che si rampega e che vuole, che fa il reparto soccorso alpino. Io voglio saperlo, voglio saperlo, come cittadino. Credete che l'abbiamo fatta l'interrogazione? Ma te poi immaginate, ci fate la sua, quel mal di Tamanini, te poi immaginate, se ne frega. Se, se, invece, si facesse un'interrogazione del genere, banale, dite voi, no, che non è banale, no. Perché c'ha un costo quelle cose lì, hanno dei costi. Allora la Guardia di Finanza, che vada a guardare altre cose, e non il reparto antisommossa, e non i gomoni che sono sul lago, che fa i sommossatori della Guardia di Finanza, quando che è qui della Polizia, che è qui dei Carabinieri. Questo è sperpero di denaro, e su questo ci dovrebbe puntare. Forse la gente sarebbe più innamorata. Ma il fenomeno dell'astensione, ragazzi, è molto preoccupante, perché non è quei solo i 40 che non vota, ne è quei sotto i 40, sotto i 30. I giovani, i giovani, oramai sono abituati alla velocità, e ti manda le email, e ti vede l'internet, o ti vuole sapere una roba, tatà, pof, il asà. Non è come il sottoscritto che tante volte, insomma, va con il rallentatore. Spesso va con il rallentatore. Ma hanno bisogno di cose veloci. Non possiamo andare avanti con un Parlamento, con dei provvedimenti che sono lunghi, eterni e cose. Allora, l'astensionismo è come la mancanza di gente che va in chiesa. perché le chiese sono mezzo e vuote? Ci sarà un perché. Meno almeno, io alcuni, perché lo so, e credo ai paroti di aver galdipo della volta, ma loro stessi dovrebbero saperlo e cambiarlo. Questi sono, bisogna cambiare il sistema, com'è che posso dire, di risposta a quelle che sono le esigenze della gente. La gente è stufa di burocrazia. Allora, abbiamo detto in una trasmissione, ed è importante, che i clienti bisogna pagarseli. E questa, guardate, è una regola alla quale assolutamente non vado in deroga. Ma che la ora è che noi rompa le balle, perché a me va bene pagare la provincia, pagare i beni culturali, ma non che i beni culturali rompa le balle costantemente, o che gli uffici di allenare, bisogna che ci sia un'impostazione diversa. Allora, i giovani sono abituati a un mondo. Allora, io dico, quando le cose non vanno, che cosa bisogna fare? Andare dall'altra parte della barricatta e analizzare e guardare perché i giovani non votano. io non sono naturalmente la persona più competente. Mi fermo un per la strada e gli domando, scusa, rinnovo la patente, si, andrà a rinnovare, ecco, cosa fa? Mastanza, dottor, sono chi che devo spostare, devo mettere in gabbiota la banda di vento matto su e so per il comune. Tassas ora, tassas contro tassas. Guardate, ve ne dico una e poi chiudo. pubblicità della farmazia. Allora, se metto fuori un cartello che anziché essere metro e cinque paga la multa. Allora, pago la multa se passa il funzionario perché il funzionario è unico perché se ne paga tre o quattro e si maia fuori i soldi della pubblicità. E tutta sta roba è per il cartello, cartello, la scritta ora, la scritta sotto. I cittadini a un certo momento si disamorano. E la parola disamorare è brutta non solo nell'amore tra uomo e donna ma è brutta quando nei politici a parte che mi l'amore con l'ottobre non faria mai. Vi saluto.